Dall'Albania alla Puglia fino a Montescaioso in provincia di Matera è questo il percorso della droga che è stato ricostruito dalle indagini svolte dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. Un'operazione condotta dalla Polizia di Potenza in Matera che ha portato all'esecuzione di 21 arresti tra le aree pugliesi della provincia di Taranto e Bari e che vede nel piccolo comune del Materano una centrale di spaccio per l'intera zona. La comunità di Montescaioso che torna dunque alla ribalta dopo essere stata protagonista e negativo già negli anni 90 a causa di diversi casi di cronaca nera tra cui efferati omicidi ed è stato proprio un altro omicidio quello di Antonio Greco avvenuto a Montescaioso il 27 maggio del 2019 e le successive dichiarazioni del pregiudicato Giuseppe Delia che sono emersi indizi tali da far ricostruire agli inquirenti l'esistenza di un'organizzazione criminale che faceva capo ad un personaggio noto della malavita montese Nunzio Paolo Castellaneta tra gli arrestati uomo che risulta essere tra i vertici di questa nuova organizzazione criminale. Sullo sfondo delle indagini sempre un legame serrato con la malavita pugliese e con l'apprivigionamento di droga del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana dall'Albania. Questa attività criminale è assolutamente attiva, operativa su tutto il territorio, ci imbattiamo continuamente in sodalizi dediti a questo tipo di attività che è socialmente pericolosa e che però offre parecchi guadagni a chi la svolge. Tra i dettagli dell'indagine è anche la presenza di donne nell'organizzazione criminale e case di spaccio di fronte a minori. È un fatto gravissimo perché chiaramente incide anche sulla educazione dei ragazzi, quasi che, voglio dire, trafficare stupefacenti sia una qualsiasi attività lavorativa, come una volta le nostre nonne e le nostre madri facevano le sartine a casa mentre i bambini giocavano, ecco adesso succede questo ma purtroppo mentre vengono confezionate dose di sostanza stupefacenti.